Adesso si può veramente partire e allora si parte, questa è Prato United Riccione, le formazioni delle squadre che si affrontano In parte della United Riccione c'è il cross con il pallone che si alza, attenzione, colpo di testa e la palla che non entra in rete E' clamoroso con Barbuti, poi c'è il fallo in attacco fischiato al Prato, Marino Poi c'è la traccia larga per il suggerimento verso Barbuti, Barbuti, la palla fuori, l'altra occasione per il Prato Ora il tocco verso Barbuti, la palla è buona, attenzione Barbuti, 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 eccolo qua, eccolo qua Ed è tutto buono, il Prato è in vantaggio, grazie al gol realizzato da Riccardo Barbuti Alla terza occasione, Barbuti ha fatto centro e questa volta il gol che sblocca il risultato Grazie a Riccardo Barbuti che al decimo minuto porta avanti la formazione del Prato La mitraglia di Barbuti, il vantaggio del Prato, grazie appunto al tocco sottomisura La palla adesso è per Sollacu, attenzione, Sollacu, conclusione, palla che termina sul fondo, c'è deviazione, sarà calcio d'angolo Pericolini va al cross, interessante, Fantoni la tiene lì, poi la ribattuta da parte di Mariani Il pallone che si perde sul fondo, occasione per lo United Riccione del traffico Allarga ancora il pallone per Pericolini, attenzione al movimento di Mbacocu Il cross deviato, attenzione, secondo palo, Sollacu, Fantoni la tiene lì, non è gol Fantoni la tiene lì, non è gol Sollacu, ancora pericoloso Con questo colpo di testa, ancora da dietro, si riparte, attenzione a Barbuti che recupera il pallone su Santoni Barbuti, la rimette Barbuti, la palla per Marigosu Marigosu, non ci credo, attacca ancora vivo Marino Salvataggio sulla linea, è successo di tutto Amici all'ascolto e alla visione con il Prato, vicinissimo al raddoppio Pericolini La mette Pericolini, Mbacocu non ci arriva, la palla è per Mariani Mariani di prima intenzione e poi c'è il pareggio C'è il pareggio dello United Riccione Ha segnato Matteo Lixusu Eccolo qua, il pareggio del giocatore con la maglia numero 29 Lixusu Che ha trovato quindi La rete del pareggio E' uno a uno a lungo Bisenzio Il pareggio dello United Riccione E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato United Riccione Diambò Rientra sul piede debole E allora deve scaricare Attenzione alla cross, secondo palo Solacu, poi la palla è per Mbacocu Poi Barsotti, Diambò Fantoni, ancora una volta decisivo Magazzu Ancora Magazzu, ora di rigore Magazzu va a cercare Remedi Calcia Remedi Colpisce Barbuti, non ci credo Attacco ancora vivo, poi sbaglia Limberti Non fortunato il Prato Ancora con il destro Si fa vedere Girgi Marigosu, palla all'interno dell'aria Colpo di testa La parata di Chiri Cosa ha fatto Chiri? Una parata straordinaria Molto bravo Poi questo lancio lungo per Barbuti Attenzione perché è buono Barbuti Barbuti Chiri Mamma mia Cosa ha preso Chiri? Portiere dello United Riccione Protagonista assoluto In questa ripresa La coppia d'attacco è Magazzu Moreo Mentre non mai Attenzione però Allo United Riccione Mamma mia Mamma mia Occasione per la formazione Allenata da Beoni Al minuto 21 Rilancio lungo Poi Mbakoku Attenzione a Mariani La mette giù Passa Mariani nel traffico Facenzialmente Ancora il tocco largo Barsotti Barsotti Palla alta Barsotti ancora Subisce fallo Anzi no Si gioca E allora buona per il Prato Con Limberti Ancora Limberti Limberti conclusione Palla alta Palla alta Palla alta Bontempi Il cross Bakoku Di testa Palla alta E' un brutto cliente Questo Bakoku Arriva Remedi Però Bontempi E' più fresco Attenzione a Remedi Che è già ammunito Occhio 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 Espulso Espulso Remedi Doppia ammunizione Espulso Remedi Prato Prato in dieci uomini Bontempi Prova la battuta Fantoni La tiene lì Moreo Poi il colpo di testa E allora mi sa che è finita qua Mi sa che è finita qua E infatti E' finita qua E' uno a uno Al lungo Pisenzio Tra il Prato E lo United Riccione Nel primo tempo Le reti Che hanno deciso La gara Con Barbuti Che ha Segnato per il Prato Al decimo minuto E il pareggio Da parte De lo United Riccione Con Luxaku Al minuto 38 Prato Che ha chiuso In dieci uomini Espulso Al 42esmo Remedi C'è ancora Tanto Tanto Da lavorare Mister Marco Mariotti Allora pareggio Casalingo Con Lo United Riccione Un pareggio Con qualche Recriminazione Assolutamente Sì Tantissime 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 C'ho delle considerazioni Mie personali L'ho fatta ieri Al presidente Non sto qui a dirlo Ma Non siamo proprio cattivi Quando il primo tempo Abbiamo avuto la squadra Per chiuderla E per chiudere la partita Non siamo proprio cattivi Ci sono atteggiamenti Che non mi piacciono Gente scontenta Gente che non sorride E a me questo Non mi sta proprio bene La partita di calcio Deve essere una gioia Deve essere una sofferenza E io gli ho detto Al presidente Lo dico anche pubblicamente Secondo me Finché ci sarò io qua Chi non sta bene Quella è la porta Per me possono uscire Da domenica Giocherà solo la gente Che darà il sangue Darà il sangue in campo E non avrà paura Di tutto Sono molto deluso Punto Sono deluso Perché la squadra Ha approcciato bene La partita E il primo tempo Era un primo tempo Da finire 3-4-0 E abbiamo finito 1-1 E alla fine Rischiamo pure di perderlo Questa è la mia considerazione L'ho fatta ieri al presidente E bisogna intervenire Bisogna intervenire In entrata e in uscita Senza nessuna remora Senza nessuno Nessun che Perché se no Si gira intorno al problema E i finti per bene Non vanno bene È quello che penso Rivoluzione totale Chiede Assolutamente no Rivoluzione totale La rivoluzione di chi è scontento Di chi non gli sta bene Se viene sostituito Di chi non gli sta bene Di quando entra E' poco contento Nel calcio siamo 20 E dico sempre E' sempre questo Poi è bello A fine del mese Che vogliamo i soldi Ma dobbiamo dimostrarci C'è gente che paga il biglietto E viene Se uno è scontento La porta Prende e va via Come da tutte le parti Perché non è possibile Che deve pagare sempre L'allenatore L'allenatore è sempre Il coglione di turno E non va bene Punto Tornando alla partita Sostituirebbe di nuovo Barbuti e Marino Assolutamente sì Perché no La porta si è un po' abbassata L'illicione ha fatto meglio Da quando sono usciti Devo capire pure Che ho totalmente a disposizione Perché vederli in partita È un altro Ho avuto compagni di squadra Giocatori che il giovedì Erano fenomeni La domenica non si vedevano E allora io dico Quando tu entri Devi dare qualcosa in più Per mettermi in difficoltà Perciò quello che ho fatto Lo rifare sempre Evidentemente Sono le risposte Che non ho ricevuto E perciò Se non ho ricevuto le risposte Con sorriso Sono quello che dovevo fare Perché non lo sapevo Non ho fatto La preparazione Li ho conosciuti adesso I giocatori Piano piano si conoscono E poi piano piano Prenderemo le nostre valutazioni Ma certo però Una partita come oggi Non portarla a casa Anzi All'ultimo Abbiamo pure Ringrazio Dio Che non l'abbiamo persa Non va assolutamente bene È partita con una formazione iniziale Nuova Rispetto al passato Che indicazioni hai avuto? Ottime Perché il primo tempo Penso abbiamo creato Quattro Cinque palle Glock Lavorose Poi Purtroppo c'è nel calcio Che ha una disattenzione Una volta Hanno fallito il gol Poi la seconda Poi la seconda Hanno trovato il pareggio Ma questo non vuol dire niente Ti rimetti sotto E ti rimetti a giocare Però devi avere la voglia La cattiveria Di andare a riconquistare la palla Devi avere questo aspetto qua In Serie D è questo Poi quelli bravi I tacchetti I dribbling Le cose Sono tutte robe a racine Ma sono tutte robe che non serve Noi siamo umili Siamo all'infondo Dobbiamo combattere E poi c'è la gente che usa la sciabola Non il fioretto Mister Loris Beoni Un pareggio 1-1 Della sua United Edricione Qua sul campo del Prato Una partita equilibrata Un risultato che ritiene giusto Sì Credo fondamentalmente di sì Noi veniamo da un periodo Non positivo Per cui chiaramente Dovevamo fare questo tipo di partita Era la partita che dovevamo fare Cercando di Limitare il più possibile E nello stesso tempo Cercare anche di Di offendere E di creare qualcosa Ci siamo riusciti Potevamo vincere Potevamo perdere È venuto a fare un pareggio Ma credo che tutto sommato Ci possa stare Ci aspettava questo tipo di Prato? Sì Tutto sommato sì Il Prato che conosco Il Prato che Che è stato questo Nelle ultime partite Poi Nell'ambito dei 90 minuti Bisogna sempre vedere Nelle singole situazioni Dove finiscono i meriti nostri E i meriti degli avversari O i demeriti nostri E i demeriti degli avversari O i dimeriti nostri